Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnesio Fedeli. Domenica da Bollino Rosso per il controesodo estivo, al momento in A1 code a tratti tra Vallichiana e BV1 variante verso nord, sempre verso nord, traffico intenso tra Aglio e BV1 variante. In A12 restano rallentamenti verso Genova, tra il nodo A12 raccordo Lucca-Viareggio e il BV12 A15 Parma-La Spezia. Moltiamo pagina per il traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco a causa di un principio di incendio in prossimità della linea tra Montalto di Castro e Capalbio, i treni della linea Fisa-Roma potranno subire ritardi e variazioni. Al momento sono coinvolti due treni regionali con ritardi compresi tra 9 e 24 minuti e ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!